Ed eccoci ragazzuoli, finalmente ci siamo insieme a lui, tu veranza! Signori, siamo pronti per queste sfide su Butokai Tenkaichi 6? Dai! Butokai Tenkaichi 7, 8, guardate che personaggi! Sì, guarda qua, bro! Guardate quante ne abbiamo! Personaggi dei film, personaggi del manga, personaggi del... Di quello che volete voi! Ragazzi, abbiamo pure... Guardate, abbiamo pure addirittura Gohan... Dov'è? Gohan Beast nella sua forma incredibile e impressionante! Guardate tutto il video, ma soprattutto, Oiu, possiamo dirlo? Dovete lasciare adesso un mi piace, supportateci al massimo per questi scontri! Bro, ma noi gli dobbiamo anche dire questa cosa! Cioè? Ovvero che per adesso vedrete questi, ma stiamo già lavorando a nuovi personaggi! Troppi spoiler tu fai! Via, inizia lo sconto! Mi raccomando ragazzuoli, iscrivetevi ora! Attivate la campanella delle notifiche e non vi perdete queste battaglie assurde, incredibile e impressionanti! Perché è solo la prima! Poi giocheremo, speriamo, anche con Blazzi, dopo che sarà tornato per l'ennesima volta dalla palestra! Sì! Purtroppo, ragazzi... Si sta allenando perché è partita questa sfida, bro! Perdonatelo, purtroppo Blazzi ha delle priorità fisiche e deve soddisfarle! Comunque, via! Ma dove vai? Ma così? Eh, bro, scusa! Bro, ho preso il sasso in faccia! Sei partito alla grande? Ma guarda questi trick da subito! Al momento, ragazzi, la visuale purtroppo deve essere così, divisa a metà! Cercheremo di trovare il modo di evitarlo, ma non credo sarà fattibile! No, 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 bro, non posso fronteggiare l'ultraestinto così! E quindi? Seconda forma, ma te le devi fare tutte! Ma no, ma... Ma perché ha fatto la seconda, fra? Bro, ma non erano questi i programmi! Ma doveva andare direttamente alla forma finale, perché è andato così? Eh, non l'ho capita, bro, ma... Nel frattempo te la becchina super kamehameha! Ma, bro, ho capito che è successo! Che è andata? Perché avendo cambiato il personaggio... Ora, questo è il freezer, quello lì, dell'anime, no? Ah, quindi praticamente... E mi sa che io mo' la forma black non ci arrivo! Dai, 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 fattele! Tanto te le puoi fare una dopo l'altra! Come vede? Sì, sì, te le puoi fare tutte una dopo l'altra! Vai, fane un'altra! Ok, questa è la golden! Tanto dipende dal vigore, capì? No! Ah, che pacco, fra! No, eccola, 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 golden! Ah, ok, eccola, golden! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, divento pure l'ultraestinto! Questa è la forma divina! E allora io vado con l'ultraestinto completo! Via! Oh, un bazzuto totale! Allora così, kamehameha! Via! Aia! Ma che fai? Non te la pari? Ma guarda che aura c'ha! Ma è matto? Oh! Aio! Mannaggia la morte! Oh! L'ultraestinto, bro! L'ultraestinto! E lui o non è lui? Golpe meteorico! No! Bro, ma dovevamo fare... C'era lo scontro... Eh, ma infatti mi stavo preparando per fare quello io! Ma guarda che animazione c'ha! Ma pazzesco! Bellissima! Ma è proprio bello! Io muo provo a far potere al massimo! Perché ragazzi dovete sapere che il gioco in inglese è spagnolo E noi lo traduciamo in italiano, capi? Così! Rush kamehameha! Ma tu sei matto! Ma non è vero che la Rush kamehameha! Genkidama! Ma tu sei matto! Boom! Ma non era la Genkidama! Sparisci! Simeone! Mamma mia! Oh ma hai distrutto i vestiti! Allora! Adesso, bro! It's a ride! Adesso che, bro! Volevi, amico mio! Adesso arrivo da te! Via! È il mio momento! Ma porca di quella... Hai visto è uscito Potara, Vegeto? Non hai letto, bro! In alto a sinistra è uscito Potara! Ho perso! E invece... E adesso perderai ancora di più! Trasformazione della forma gigante! No, questa forma no! Questa, per chi non l'ha vista... Questa proviene dal manga di Dragon Ball Super! Ma molti ragazzi, io che ho capito, non l'hanno letto! Oh mamma mia! Via, 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 via! Oh! Scoppiete questa! Scimmia gigante! Ti prego! Resisti, Goku! Ti prego! Oh! Ma come fa a non resiste questo? Via, 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 via! Mamma mia, bro! Oh! Rush Kamehameha! Ma che cos'è questo Genkidamone? Eh bro, dai! Ma non vale però! Ma non vale, sei gigante! Ah bro, ma che gigante! Però una volta non ti ho colpito da vicino da gigante! Però questa comunque è stata una battaglia di spam! No, è vero, è vero, è un po' sì! Eh bro, mo ti sponno però! Sei carico! Ti sponno, ti sponno! Fai con me Bladzi, puoi aprire e non sponni! No, 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 bro, mo mi dispiace ma... Oh mamma mia, Kid Buu? No bro, mo è proprio finito! Allora sai che c'è di nuovo? Io vado con con Piccolo, voglio arrivare alla forma Orange! Orange Piccolo! Ti piace il villaggio pinguino, ti piace? Sì! Direttamente da Arale? Oh! Più premi in due e più si fa e si ricarica veloce! Eccoci qua! Oh oh oh! Dottor Slampi Arale! Voi ti faccio vedere con... Ma? Ma? Ma io non ho! Bro! Ma il gioco è bagatissimo! Ma io non ho! Ma è assurdo, fra! Doveva essere con il den cooler! Che era? Cosa avevi? Eh, boh! Era tipo una fur... No! Boom! Era palesemente un'altra roba! Io vado subito con l'Awaken! Via! Ma è bra! Sì! È bra! Va! Ma can cosa può... Eh, bro! Ma io non mi posso trasformare! È bene! Godo! Oh! Trasformazione! Via! Ma che fai? Non so perché... C'è un attimo di baghetto! Orangio piccolo! Ai 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 ai! Ulteriore trasformazione! Via! Che diventa! Dai, dai! Ma che è? No! Eh sì, bro! E tutti i giganti ti si preso! Ma non vedi che sono più lento così? Ma mo ti becco così! Va! Granata lighera! Che dovrebbe essere granata inferna... Ma ho fatto un'altra mossa! Ma che sta succedendo? Ma comunque ragazzi... Ma perché io c'ho bra? Eh, bro! Ma il gioco è bugatissimo! E questo è il problema! Ma com'è che si ricarica? Oh! A chi è pa' bra? Ma la gigante mi prende! Sì! Ma si è bloccato! Si è bloccato pure a me? Bro, mi hai fatto bloccare il gioco! Me l'hai fatto bugare! Ma sei matto! Ma che sta... Bro! Hai fatto la presa su un personaggio gigante! Si è buggato! Bro, ma che sta succedendo? Ma sei matissimo! E mo' dobbiamo riavviare! Ah, però l'ho vinta io questa! No, no, no! Tu teneri due barre di vita! No! E io ce ne ho con cinque! Ci riproviamo ragazzi! Ci riproviamo! Sperando che questa volta tutto vada bene! Ha scelto un altro personaggio! Perché di serie secondo che è brandato così hai fatto buggare tutto! L'ho capito! Eh, no! Eh, bro! Io non so se... Ma c'ha Laura? Assurda! Uuuu! 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 È finito! È finito! Arco schifo! Mannaggia! Volevo continuare pure, devi dire! Allora, via! Bola de choque! Sarebbe granata infernale, ok! Sì, e pensa che io mi stavo preparando! Via! Ma cos'è sta mossa, bro? Benissimo! Ma le vedi le skills che non ho? Uuuu! Aio! Ma com'è bello grosso, eh, sto orange piccolo! No, ho sbagliato tutto! Va bene, dai! Vai, mannaggia la miseriaccia! Vai! Maximo poter, come dicono qua! Uuuu! Furia divina? Beccate questo! Parato! Si è parato! E allora! Ma? Forma fusa! No, forma corrotta! Cannone dell'anima! Special! Bella! Bella, bella, sì, sì! Ma ti avevo preso o no? Sì, sì, però una bella mossa, bro! Devo dire che... Devi? Oh! Oh! Mannaggia, volevo fare un paio di tre... Ma che sta facendo? Ma è mattissimo! Alta tension! Ma che fa... Ma perché ti diverte così tanto al fatto... Ma perché le mossa è poi spagnolo, non lo so, fanno strano... Eh, bro, temerano canzoni... Eh, le tue canzoni spagnoleggianti che ti piacciono tanto! Boom! Boom! Ehi, va buona! Boom! Spagnoleggia proprio! Via! Ricarica che non ti vedo più! Ma tu vuoi vedere una cosa che succede adesso, Fra? Ma hai trasformati, vediamo... Diventa tipo, che ne so, un SaiBuyMan! Uh! Eh, ecco qua! Scontro delle aure! Facciamolo! Bro! Oh, maronna mi! Meno male! Eh, vabbò, Fra, buonanotte! Eh, ma lo sai perché è KO? Perché quella la mia è l'autodistruzione! Sì, vabbò, ma... Ma non sei andato KO per questo! Sei andato KO perché ti ho fatto la suprema! No, sono andato KO perché mi sono autodistrutto! Sì, ma tu te nevi una tacca e mezza di vita! Con il cannone dell'anima speciale andavi giù! Cioè, ne che... Non lo so se... Non lo so, eh! Allora, via! Gohan! Tu... Con chi fai? Con Frosto? Sì! Furost! Furost! E ora andiamo a combattere qua! Bellino, bellino! Ma sti capelli di Gohan un po' stralunati, un po' così? Via! Allora, vediamo che mosse ha! Eh, vediamo che mosse ha! Ah, me la fa lui! Io ero di spalle! Super Masenko! Va bene! Ma perché non va? Mannaggia la morte! Via! Gekiretsu Madan! No! Uh, è stanco? Ah, eh, sono stunnato, sì! Boom! Allora, iniziamo da subito! Trasformazione in Super Saiyan! Via! Ok! Raffagavolle al massimo! Provento di sotto una bella canzoncina tipo di quelle... No, Fran, già faccio, sta cosa è troppo forte! Ah, bro, però, basta pararti! Rompi! No! Sempre o in ogni gioco si sta parata! Super Masenko! Ma non è il Masenko! Che palla che sei, zio! Oh, ma è tecnica, Fran! Ma che tecnica! Spamone! Trasformazione nella forma Ultimate! Super Kamehameha! Vabbè, dai! Vabbè! Via! Guarda, dai, però, però, non piangi, eh! Ma c'ha lo stile di Gogeta Palese! Ma sono fortissimo! Eh, sì, certo! Combinazione dei metri... Via! Eh, perché non mi fa... Oh! È arrivato il mio momento! Questa è la forma Beast! Ma io c'ho un'altra forma? Eh, vabbè, non esiste, in realtà, però, sì! Vediamo che c'ha lui! Oddio! È senza nome questa forma! Cioè, questa cosa! Ma? Oh, maronna mia! Bro, posso dirlo che stai buscando? Eh, bro, sto buscando, sì! Ma sono fortissimo! Sono palesemente incredibile! Ma? No, bro! Mo ti elimina, voglio vedere la Suprema! Giusto, giusto per la Suprema, bro! Top! Eh, potere al massimo! Come fai a far potere al massimo? Devi fare R2, cerchio su! Non lo fa per tutti i personaggi! Guarda, 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 guarda come si fa! No! Tinci io veramente, ragazzi! No, no, piangi! Eh, bro, attenzione, perché qui... Abbiamo il Macan! Cosa po', incredibile, impressione! Ma? Bro, è una presa! 20.000 danni? Era una presa, secondo me, questa! Bro, io credo che tu abbia bisogno di una bella rinca! Bro, io credo che tu hai spammato solo Supreme e Parate! Solo quello hai fatto! Hai solo spammato! L'unica partita che stava a vince e hai fatta crash al gioco! Mamma mia, non è vero, Fran, stavi perdendo! No, 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 è vero! No, non è vero! Non è vero! Vabbò, ragazzi, decidete voi nei commenti! Sono curioso di vedere cosa ne pensate! Presto nuove sfide, sia sul mio canale che su quello di Tube, quindi andate a vederlo! No, io non ci torno! Vabbè! Alla prossima, lasciate un like, ciao! Ciao!